Grazie a tutti. A Panza, gli spogliatori fatiscenti al campo sportivo San Leonardo, c'è Domenico Savio che chiede l'intervento urgente dell'amministrazione comunale. Criticità dei litorali ischitani, si è svolto questa mattina un importante convegno a Forio. È stata presentata a Ischia la non edizione dell'Ischia Teatro Festival, con Mario Basentini parleremo di elezioni a Ischia, con Lucio D'Orta dell'Ascom invece ci occuperemo di manifestazioni natalizie sul territorio. Ed ancora parleremo della giornata mondiale del 25 novembre contro la violenza sulle donne. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra poco dopo la pubblicità. Per il parco termale Negombo, servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche, tra il cielo e il mare. Se cerchi le soluzioni per realizzare i tuoi sogni, scegli un asso. Scegli Associazione Contro Soffrittature. Rendi i tuoi ambienti più accoglienti, più belli, più vivibili. Le tue idee diventano realtà con archi e volte in nervo metal a cura di Edil Barbato Rauci. E con Poliedrico Ischia il tuo spazio prende forma. Il polistirolo è l'ideale per l'edilizia, cappotti termici e cornicioni, allestimento negozi e reparti termali. Ogni prodotto è realizzato ad Ischia, su misura per te. Al fianco di architetti, geometri, decoratori, imprese edili, Poliedrico Ischia. E per restauri ricostruttivi e conservativi, scegli Materastucchi. Soluzioni in cartongesso ad alta prestazione, acustica, idrorepellente ed antincendio. Operai qualificati, realizzeranno i tuoi sogni. Associazione Contro Soffittature, Edil Barbato Rauci, Poliedrico Ischia e Materastucchi. Il tuo asso nella manica. Ti piace lo sport? Ti piace scommettere? Allora passa da noi. Passa a Planetwin 365, la sala scommessa per il tuo divertimento. Le quote più alte, i bonus più vantaggiosi. Li trovi solo da Planetwin 365, Planetwin 365 e a Ischia e Pilastri Nuova Gestione. E a casa Miccio la Terni in Via Cumana. Se ti piace scommettere, c'è un pianeta dedicato a te. Planetwin 365, il pianeta vincente delle scommesse. Il gioco è vietato i minori e crea dipendenza. Il gioco è un pianeta. L'acqua a meno approvato il bilancio riequilibrato del 2014. Il sindaco Giacomo Pascale, ora possiamo avviare il risanamento del lente in maniera concreta. Panza, spogliatori fattiscenti al campo sportivo San Leonardo. Domenico Savio chiede l'intervento urgente dell'amministrazione. Di Maio, abbiamo approvato il progetto per la ristrutturazione. Ora cercheremo i fondi per realizzarlo. Criticità dei litorali ischitani, importante convegno a Forio. Molto problematica la situazione delle coste ischitane. C'è bisogno di progettualità e sinergia tra parte scientifica, operatori ed enti locali. Presentata la nona edizione dell'Ischia Teatro Festival, tante le novità per Enzo Boffelli tra gli organizzatori. Per l'assessore Criscuolo bisogna puntare sul binomio teatro e turismo. 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, un fenomeno radicato alimentato dalla cultura del silenzio. In Italia, nei primi dieci mesi dell'anno, già 116 le donne uccise. Dopo il telegiornale, lo speciale con l'avvocato del prete, si parlerà di cibo a scuola, a seguire l'incontro di calcio Sibilla Bacoli Virtus Ottaviano del campionato di promozione. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Dunque, la protezione civile della regione Campania ha diramato un avviso di avverse condizioni meteo e criticità idrogeologica di colore giallo, valevole sull'intero territorio regionale, a partire dalle 6 di domani mattina e per le successive 18 ore. Si prevedono precipitazioni anche a carattere temporalesco, in particolare sulle zone costiere. Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine ai fenomeni di dissesto idrogeologico che con riferimento alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e al moto ondoso. L'Acquameno ha approvato il bilancio riequilibrato del 2014, soddisfatto il Sindaco Pascale, un atto tanto atteso che consente di avviare il risanamento dell'ente in maniera concreta. Ora potremo approvare i bilanci degli anni successivi e quindi allineare l'atto contabile alla vita amministrativa del Comune. Ascoltiamo il Sindaco. Sindaco, giunge finalmente la buona notizia dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato per l'anno 2014. Ora quali le novità per il Comune di L'Acquameno? Novità positiva, nel senso che era un atto tanto atteso perché consente finalmente al Comune di avviare la fase di risanamento in modo concreto e soprattutto ci consente di poter approvare velocemente il consuntivo 2014, previsionale e consuntivo 2015, previsionale 2016 e quindi allineare l'atto contabile alla vita amministrativa dell'ente. Tra l'altro questa notizia positiva porterà anche ad un incremento del personale amministrativo del Comune. Sì, come abbiamo più volte detto il problema reale di L'Acquameno era la mancanza di approvazione di questo bilancio e soprattutto la carenza di organico. Era propedeutico, prima dell'approvazione del bilancio riequilibrato avere l'autorizzazione sulla nuova dotazione organica e quindi L'Acquameno tornerà ad avere le 22 unità per cui tenuto conto che oggi siamo a 19 avremo la possibilità di incrementare l'organico di quelle tre unità che noi riteniamo dover essere assunti nei settori di finanza e dell'ufficio tecnico. Questo consente all'amministrazione di organizzare effettivamente, come le dicevo prima e concretamente il risanamento finanziario cioè noi avremo gli atti contabili necessari e sufficienti per poter mettere il commissario liquidadore nella condizione ideale di avvicinare i creditori di chiudere le transazioni e quindi è verosimile pensare che durante questa legislatura il comune di L'Acquameno possa uscire da questo dissesto finanziario e quindi scrollarci da dosso finalmente questa cappa di fallimento. Dal punto di vista politico cosa faremo per L'Acquameno? Dal punto di vista politico faremo esattamente quello che abbiamo promesso in campagna elettorale quello che già stiamo facendo L'Acquameno continua a vivere un momento difficile noi stiamo procedendo a realizzare ciò che è necessario poi passeremo a realizzare ciò che sarà possibile e poi finalmente continueremo a pensare diciamo ai cosiddetti sogni cioè a quelle che noi riteniamo le opere che noi riteniamo importanti per L'Acquameno e per il rilancio turistico del nostro comune. Sono state fatte cose importanti nonostante il dissesto finanziario del comune adesso questa buona notizia sicuramente è una notizia che non cogliamo con particolare entusiasmo ma sicuramente guardiamo al futuro con maggiore ottimismo e maggiore fiducia affinché L'Acquameno possa iniziare quel percorso che lo deve portare fuori dal tunnel. Gli spogliatoi del campo sportivo di Panza sono fatiscenti e pericolosi situazione intollerabile per Domenico Savio consigliere comunale del partito comunista italiano marxista dell'inista l'amministrazione comunale intervenga immediatamente sentiamo Savio Fatiscenza sulle pareti esterne con lesioni e tondini di ferro arrugginiti che fuoriescono dai cornicioni in muratura tubi e cavi volanti fessure sulle pareti interne e calcinacci a rischio crollo mancanza del water in un bagno con cavetti elettrici che fanno pericolosa mostra di sé e pavimentazione dissestata non siamo nelle disastrate vele di Secondigliano ma all'interno degli spogliatoi del campo sportivo San Leonardo di Panza frazione del comune di Forio a completare il quadro di desolante abbandono della struttura sportiva ci sono anche il montante di un cancello completamente distrutto dalla ruggine e il muro perimetrale da cui fuoriescono tondini di ferro arrugginiti il tutto su di un campo da calcio che quotidianamente ospita decine e decine di adulti, ragazzi e bambini e a cui l'amministrazione comunale guidata da Francesco Del Deo da tre anni a questa parte non garantisce i dovuti e necessari lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nonostante le continue sollecitazioni che avvengono dall'opposizione Domenico Savio che si è recato presso il campo sportivo di Panza chiede con forza all'amministrazione comunale un intervento immediato di messa in sicurezza degli spogliatoi dell'importante struttura sportiva panzise Sull'argomento era già intervenuto il consigliere Giuseppe Di Maio delegato proprio alle strutture sportive che ci aveva anticipato l'approvazione del progetto definitivo per la ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo di Panza per la realizzazione dei lavori occorrono circa 200 mila euro al momento, dice Di Maio, non abbiamo le risorse ma dal primo gennaio potremo accedere al credito sportivo entro la fine della consigliatura risolveremo questo problema sentiamo Di Maio A struttura di Panza abbiamo recentemente approvato una delibera di consiglio comunale che finalmente ha recepito il progetto dell'ingegnere Pasquale Capuano che ha previsto un risanamento complessivo di tutti gli spogliatoi per un importo comunque considerevole di oltre 200 mila euro perché si tratta di degli spogliatoi sono stati definiti faticenti, pericolosi quindi non era possibile non è possibile risolvere il problema attraverso un intervento di poco conto invece è stato fatto il computometrico è stato approvato il progetto definitivo esecutivo è chiaro che c'è bisogno di un finanziamento di trovare le risorse che in questo momento però non ci sono ma che dal primo gennaio abbiamo già la possibilità di accedere al credito sportivo ci siamo già attivati e crediamo che per la fine di questa amministrazione riusciremo a risolvere questo annoso problema E veniamo a Dischia è ancora presto per stabilire le candidature per le prossime elezioni amministrative lo dichiara Mario Basentini bisognerà vedere l'attuale maggioranza chi candididerà e dall'altra parte bisognerà capire l'opposizione quale tipo di percorso farà ma tutto sarà delineato a gennaio mi auguro, dice Basentini che ci sia un candidato giovane sentiamolo Il Comune di Dischia verso la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative Mario Basentini chi sarà della partita? Ma della partita insomma per il momento è ancora un po' presto dirlo ci sarà sicuramente un esponente dell'attuale maggioranza consigliare che è per minoranza nel paese e poi diciamo nel campo avverso bisognerà capire quali saranno le scelte che ci saranno da parte dei protagonisti che oggi tutti insieme rappresentano la maggioranza reale del paese bisognerà individuare una candidatura che avrà determinati requisiti determinate caratteristiche e io credo che comunque questo sia un processo che da gennaio in poi inizierà a concretizzarsi in maniera interessante per ora magari un po' presto dobbiamo ancora aspettare allora sì penso di sì nel senso che se da una parte l'attuale maggioranza consigliare magari può dare l'impressione che abbia già un candidato ma credo che sia soltanto un'impressione dall'altra parte bisognerà capire tante cose quindi i tempi matureranno credo dopo con l'inizio del nuovo anno insomma e Mario Basentini? Mario Basentini è un cittadino che segue le sorti della politica ischitana con interesse naturalmente con passione e si augura che ci possa essere un candidato giovane che abbia consenso dimostrato radicato che abbia i rapporti giusti con l'amministrazione regionale in particolare perché Ischia deve tornare a essere ascoltata in regione e soprattutto un candidato che sappia che da solo non può governare ma che ci vuole veramente la squadra di governo l'uomo solo al comando ha prodotto disastri lo abbiamo visto con quest'ultima esperienza amministrativa quindi bisogna lavorare per creare una squadra e quindi in questo senso il mio piccolo contributo sicuramente non mancherà sono cominciati oggi dureranno fino all'8 dicembre i lavori di bonifica all'interno dello specchio acqueo del porto di Ischia reso libero a seguito della demolizione del puntile numero 1 Italia 90 i lavori sono eseguiti per eliminare residui dello smantellamento a fine di scongiurare eventuali situazioni di pericolo per il transito le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità all'interno dello specchio acqueo interessato questa mattina a Forio il convegno sulla tematica criticità dei litorali ischitani mitigazione dei rischi naturali in ambito costiero e portuale lo scopo del convegno di oggi è stato sottolineato da uno dei relatori il dottor Francesco Chiocca della media bonifiche e progettazione creare una progettualità riunire in un unico tavolo la parte scientifica rappresentata dalla seconda università di Napoli gli operatori gli enti locali e le istituzioni e giungere ad una sintesi sentiamo dottor Chiocca parliamo del convegno un convegno importante che mette in evidenza le criticità dell'isola di Ischia della costa dell'isola di Ischia ma volendo fare un'analisi volendo fare un primo check up come si trovano le coste lo stato delle coste ischitane è noto insomma sono tutti abbastanza compromesse tra virgolette ma non tanto solo per l'azione erosiva da parte proprio delle mareggiate ma anche perché l'uomo ci ha messo un po' di suo in tutto questo suo poco positivo suo molto poco positivo tant'è che oggi l'argomento è proprio questo mitigare quello che è il fenomeno diciamo erosivo parlando sempre in un ambito di progettazione progettualità oggi quello che ha fatto l'uomo a discapito delle coste è diventato un obbligo morale da parte dello stesso uomo di portare a soluzione in effetti possiamo dire adesso bisogna curare gli errori fatti e bisogna intervenire in effetti anche spendendo dei soldoni sì innanzitutto bisogna creare una progettualità lo scopo del convegno di oggi è quello di riunire in un unico tavolo la parte scientifica rappresentata dalla seconda università di Napoli gli operatori gli enti locali le istituzioni per cercare di trovare un momento di sintesi le progettualità ci sono devono essere affinate devono essere supportate da quelle che devono essere riscontri scientifici per trovare per l'isola di Ischia la migliore delle soluzioni possibili nel mio intervento ho precisato che trattandosi di Ischia non è possibile intraprendere una strada di difesa costiera che possa avere dei riflessi negativi parlando di ripascimento parlando di difesa di coste spesso si risolve un problema da una parte ma lo si sposta ad un altro nel senso che l'arenile circostante può essere coinvolto in maniera negativa da un'azione di difesa quindi trovare un momento di sintesi è supportato dalla ricerca e quindi dagli studi Convenio di oggi vedo presente il sindaco di Forio però le altre amministrazioni non mi sembra che abbiano partecipato benché tutte invitate le amministrazioni oggi sono un po' latitanti tra virgolette ma penso che siano comunque interessate perché il problema non è solo del comune di Forio che ci ha ospitato e che ha avuto la sensibilità di accogliere noi in questo convegno presumo che ci sia interesse anche da parte degli altri noi abbiamo invitato tutti ci sono i balneari c'è la capitaneria ci sono tutti i soggetti interessati della filiera non è possibile che l'isola Dischi abbandoni a sé le coste è una risorsa economica troppo importante perché intorno alle spiagge gira tutta una serie di attività economico produttive che in un momento di crisi quale è quella che attraversiamo oggi non può essere abbandonata è stata presentata al Polifunzionale la non edizione dell'Ischia Teatro Festival un'edizione piena di novità ci dice Enzo Boffelli che è uno degli organizzatori l'amministrazione comunale ha da subito creduto nel binomio tra teatro e turismo ha sostenuto l'assessore alla cultura del comune di Ischia Carmen Criscuolo sentiamo non edizione dell'Ischia Teatro Festival Enzo Boffelli quali le novità di quest'anno la non edizione dell'Ischia Teatro Festival segue la programmazione iniziata l'anno passato cioè che inizia subito dopo il premio in aria e arriva a febbraio quando poi inizierà la rassegna è un'edizione chiaramente di livello abbastanza alto quest'anno perché abbiamo selezionato degli spettacoli importanti provenienti dalla terra firma aggiungendo uno spettacolo di Salvatore Long e Luciana De Falco la lettera H uno spettacolo innovativo che verrà proposto da Artur che è Elsinore Circus e alcuni altri spettacoli in collaborazione con le associazioni di amici del teatro vedi la cantata dei pastori che ritorna dopo 30 anni sull'isola Dischia che a cavallo delle festività natalizie allieterà gli ospiti e i residenti dell'isola Dischia Assessore Friscuolo allora il Comune Dischia è vicino alle iniziative del teatro Assolutamente sì personalmente come Assessore alla Cultura io sono orgogliosa del risultato raggiunto dalle nostre compagnie locali dagli amici del teatro la nostra amministrazione l'intera amministrazione da sempre è stata vicina agli amici del teatro in particolar modo ha creduto in un teatro stabile quindi concretizzando questa realtà trasformando questa struttura in un qualcosa che potesse essere motivo di attrazione per turisti per compagnie che non sono dell'isola ma soprattutto per avvicinare i nostri cittadini al teatro e alla cultura appunto intesa anche grazie al loro operato quindi come amministrazione siamo e dobbiamo essere vicini a loro e sostenerli in queste iniziative che sono sicuramente molto positive per la nostra isola Il Natale si avvicina ma di cartelloni di eventi nemmeno l'ombra le manifestazioni natalizie andrebbero organizzate molto prima è il commento di Lucio D'Orta dell'ASCOM sentiamolo L'isola d'Ischia verso il Natale come ci si sta preparando per quanto riguarda le manifestazioni natalizie sul territorio Lucio D'Orta Amedeo buonasera telespettatori io purtroppo il rammarico è sempre lo stesso le manifestazioni natalizie andrebbero organizzate prima l'isola sta facendo un grande sforzo purtroppo diviso sempre in sei comuni senza una reale concertazione una programmazione unitaria nell'organizzare le cose e questo a me dispiace perché poi alla fine basterebbe che se assessori al commercio e al turismo si siedono insieme ci facciamo un programma e magari se si siedono a gennaio avrebbero un risultato enorme il Natale purtroppo è un periodo bello per come lo organizzano per gli isolani commercialmente non ci porta un grande flusso turistico o una grande diciamo differenza di incassi ci porta che le attività alberghiere aprono purtroppo in un periodo molto tardi aprono dopo il Natale aprono per intorno al 27 di dicembre e solitamente chiudono nel periodo che va appena dopo l'epifania quindi portandoci questi dieci giorni di lavoro così con una complicanza anche per le attività perché oggi quando è un'attività e vuoi impostare un discorso natalizio devi fare degli acquisti quindi chi diciamo vuole lavorare in questo settore comprando merce e lavorando solo dieci giorni si trova poi finiscono i dieci giorni e non riesce magari a smaltirle quindi se li trova sul gruppone non riesce a fare business senti allora si stanno facendo questi incontri avremo un cartellone che sia piacevole da assistere sicuramente loro stanno spendendo una cifra considerevole per il Natale divisa nei sei comuni Casamiccio lo sta facendo Ischia lo sta facendo L'HM lo sta facendo però torno a ripetere lo fanno e questo non è una cosa positiva uscirà sicuramente un buon Natale a questo punto visto che deve uscire facciamolo uscire prima tanto il costo non andrebbe a variare se il Natale lo facciamo partire appena dopo il ponte di tutti i santi avremmo sicuramente un risultato completamente differente con un'organizzazione da parte di tutti con degli incontri ovviamente oltre all'organizzazione anche con degli incontri con le categorie con gli albergatori cercando di fare la tanto attesa di stagionalizzazione per incrementare il lavoro L'Avvocato Paolo Rizzotto fa un po' di chiarezza sulla questione del contributo scolastico al liceo di Ischia per i viaggi e le gite di istruzione il contributo è meramente facoltativo spiega Rizzotto solo le tasse per la iscrizione a partire dal quarto anno sono obbligatorie e sono tasse che vanno pagate su bollettino a parte che non può essere intestato al liceo di Ischia naturalmente è giusto pagare la quota assicurazione viaggi in quanto essa è anticipata dalla scuola ed ammonta 7 euro impedire a uno studente dice Rizzotto di partecipare ad un viaggio di istruzione perché non ha pagato il contributo è un clamoroso abuso in questo comportamento potrebbero ravvisarsi gli estremi di reati penali denunciabili alle autorità giudiziarie esistono infatti delle circolari ministeriali molto chiare spiega Rizzotto secondo le quali vanno segnalati quei casi in cui soggetti appartenenti alla istituzione scolastica siedono il pagamento del contributo facendolo passare per obbligatorio il 25 novembre ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne un fenomeno ben radicato alimentato dalla cultura del silenzio in Italia nei primi dieci mesi dell'anno sono già 116 le donne uccise in pratica una ogni tre giorni vediamo il servizio il 25 novembre ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne istituita dall'assemblea generale delle nazioni unite in ricordo delle sorelle patria Minerva e Maria Teresa Mirabal attiviste della Repubblica Dominicana uccise abbastonate proprio il 25 novembre nel 1960 per la loro opposizione al regime dittatoriale la violenza maschile sulle donne ormai fatto di cronaca quotidiana sino ad ora né la legge del 2013 contro il femminicidio né il piano antiviolenza prodotto dalla commissione pari opportunità hanno dato risultato non sono diminuiti i femminicidi e i dati sono diventati sempre più tragici in Italia ogni tre giorni una donna viene uccisa da un marito un fidanzato un compagno sono già 116 le donne uccise nei primi dieci mesi del 2016 dai dati emerge che il 53,4% dei femminicidi si è registrato al nord e il 75,9% in ambito familiare l'arma da taglio è quella più usata una volta su tre a uccidere nel 92,5% dei casi sono uomini e quando parliamo di violenza indichiamo oltre a quella fisica anche quella psicologica quella sessuale economica e lo stalking quest'ultimo reato è cresciuto in modo spropositato in Italia e indica le molestie ossessive e patologiche spesso si diventa vittime per non aver colto in tempo i segnali di pericolo la donna che subisce violenza appare sola spesso madre e moglie senza indipendenza economica molti casi di violenza si perpetrano quindi all'interno della famiglia e le donne non denunciano perché sperano che un giorno l'inferno a cui sono sottoposti finisca e l'attesa 18 troppo spesso si trasforma in morte denunciare può salvare la vita di una donna ed è dovere di chiunque venga a conoscenza di una situazione simile avere il coraggio civile di segnalare il fatto spegnere il silenzio accendere il cambiamento con questo slogan parte del progetto non da sola varata da Comune di Ischia ambito territoriale regione Campania che sarà presentato ufficialmente domani il progetto è finalizzato alla realizzazione di un centro antiviolenza in ciascun ambito territoriale che dovrà garantire i seguenti servizi assicurare la tutela e il sostegno alle donne e a tutte le persone vittime di violenza di genere favorire il recupero psicologico sociale nonché l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne e dei soggetti vittime di violenza il Comune di Ischia è stato beneficiario di un finanziamento di quasi 50 mila euro per sviluppare le sei azioni cardine del progetto il centro dovrà essere aperto per almeno tre giorni a settimana domani alle 11 ci sarà la conferenza stampa di presentazione del progetto presso la sala consigliare del Comune di Ischia alle 15 uno stand informativo e flash mob di tango argentino presso la piazzetta San Girona un decreto della Regione Campania riconosce la possibilità di presentare richiesta di incentivo per interventi di rafforzamento demolizione e ricostruzione locale di edifici privati nell'ottica di prevenire e ridurre il rischio sismico la Regione ha stanziato circa 3 milioni e mezzo di euro per questi contributi da riconoscere ai cittadini proprietari di immobili situati in territori ritenuti a rischio sismico come l'isola di Procida il Sindaco Ambrosino ha quindi firmato l'avviso pubblico del 22 novembre per applicare a Procida la misura gli interventi ammissibili sono interventi di rafforzamento locale di miglioramento o adeguamento sismico di demolizione e di ricostruzione la richiesta di contributo dovrà pervenire al comune di Procida conformemente al modello legato al bando entro le ore 14 del prossimo 27 gennaio lo sport il calcio ieri sera è stato effettuato l'abbinamento per i quarti di finale della Coppa Italia di Lettanti c'è solamente una squadra casertana in lotta come lo scorso anno e la Sessana che affronterà ancora una volta il Real Forio la partita di andata in casa della Sessana sarà giocata mercoledì 30 novembre alle 14.30 ritorno previsto per mercoledì 14 dicembre a campi invertiti chi inizia un'attività di running spesso non sa da che parte iniziare sicuramente una delle cose più importanti per chi ci accinge a correre sono le scarpette si tratta di uno strumento fondamentale non solo per ottenere il massimo delle prestazioni ma anche per evitare di incorrere in infortuni ne abbiamo parlato con un atleta e tecnico sportivo Sebastiano Balestriere che ci dà qualche raguaglio sulla bc della scarpa da corsa sentiamo spesso chi comincia per la prima volta a correre ha difficoltà anche per quelli che sono i passi iniziali cioè cosa acquistare che scarpa comprare perché ci sono delle differenze quindi ne parliamo con un tecnico Sebastiano Balestriere che ci dà qualche consiglio sì effettivamente direi che è l'unico strumento fondamentale per chi vuole incominciare un'attività podistica il resto direi che letteralmente non si hanno delle allergie a determinati tipi di tessuti insomma l'orologio se si vuole confrontare o si vuole fare agonismo però l'unica cosa fondamentale sono le scarpette allora innanzitutto bisogna fare una scelta che riguarda il tipo di intensità di lavoro che si vuole svolgere cioè la corsa leggera denominata jogging o la corsa un poco più evoluta e anche più lunga nel tempo che il running e questa è la prima distinzione da fare nel momento in cui ci si approccia all'acquisto di un paio di scarpette è fondamentale che si acquistino scarpette che abbiano un sistema ammortizzante molto evoluto e abbastanza ampio al fine di proteggere infortuni soprattutto chi ha sofferenze con la schiena con le ginocchia ed è fondamentale comprare un paio di scarpette che abbia caratteristiche non necessariamente generiche ma magari un po' più personali che vadano a correggere chi ha pronazione o all'inverso chi ha supinazione poi dopo magari si può scegliere il dettaglio per ciò che riguarda la scarpa più evoluta per chi è più leggero per chi deve fare una competizione più lunga perché le deve fare più corte e più veloce insomma c'è una differenza uomo-donna? in generale sulla pianta cioè le scarpette dal punto di vista dei sistemi e dei criteri cioè della tecnologia sono assolutamente identiche le scarpette della donna in generale hanno una pianta più stretta ma la stessa cosa è anche nelle scarpe civili l'ultima domanda il numero deve essere più grande del proprio numero della calzatura classica? allora sul numero mi sento di dare due consigli uno deve essere almeno 5 mm vuoto avanti perché soprattutto quando si corre e si fanno dei sali scendi ci si rompe tutte le unghie il secondo è non guardare il proprio numero a cui si è abituati europeo classico 42 43 37 38 e neanche quello a cui si è abituato Stati Uniti perché ci sono delle conversioni diverse da azienda ad azienda il numero personale è quello che ci danno i giapponesi o anche utilizzati in Cina i centimetri se voi guardate sulle vostre scarpette a corsa il quarto numero a destra in generale sono i centimetri del vostro piede quello sarà sempre uguale in tutte le scarpette al di là della traduzione 43 44 oppure 10 11 US UK quello è quello da tenere in mente per qualsiasi tipo di scarpetta e soprattutto quando si passa da un'azienda all'altra in cui le conversioni possono diventare diverse quello che non cambierà mai il vostro numero in centimetri bene e adesso come sempre prima di chiudere uno sguardo al meteo vediamo che tempo farà sulla regione previsioni per oggi al mattino sulle coste cieli numerosi per il transito di estese nelle valli in montagna col 14 nel pomeriggio sulle coste non so ci sono qualche breve schiarita in montagna cieli numerosi per il transito di estese velature revisioni per domani al mattino sulle coste cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti in montagna molte nubi con deboli pioggia nel pomeriggio sulle coste schiarite alternate a nubi sparse in montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi bene e allora abbiamo giusto questa edizione del telegiornale vi lascio l'edizione nazionale del meteo quindi l'avvocato del prete che parlerà di cibo a scuola e a seguire la telecronaca dell'incontro Sipila Bacoli Virtus Ottaviano noi ci vediamo come sempre alle 14 arrivederci Grazie a tutti